Buongiorno a tutti, provo anche io a portare il mio contributo per questo momento molto importante dedicato alla vaccinazione e alla necessità di farlo. Il mio contributo non può essere un contributo chiaramente di natura tecnica, su cui ci sono i nostri esperti che ringrazio. Io aggiungo però una mia piccola riflessione. Ci sono dei momenti storici in cui possiamo permetterci molti distinguo e di fare anche tante discussioni sulle scelte necessarie da fare. Ma quando ci sono centinaia di morti al giorno, la scuola che fa fatica a ripartire, l'economia in ginocchio e tanta sofferenza, soprattutto tra i più fragili della nostra società, allora bisogna avere la lucidità di dirci che ci sono delle scelte che sono etiche e delle scelte che non lo sono. Perché il vaccino in questo momento è sì una scelta individuale, ma ha delle ricadute sulla collettività e sul destino condiviso che stiamo in questo momento vivendo. Quindi in questo momento abbiamo bisogno tutti di fare una scelta che è etica e che riguarda il destino di tutti. Se c'è una cosa che dovremmo aver imparato in questo momento difficile è che o ci si salva insieme o non si salva nessuno. Ecco perché non è il momento di chiudersi in gusci individualisti, negazionisti, ma è il momento di fidarsi gli uni degli altri, fidarsi delle istituzioni, fidarsi della scienza e soprattutto di essere responsabili verso se stessi e verso gli altri. Quindi mi auguro che anche questi momenti messi in piedi dal Consiglio regionale possono aiutare verso una scelta consapevole ed etica. Grazie a tutti e buon lavoro.